Con i 50 minuti che ho a disposizione dal dottor Battaglia cercherò di sintetizzare il mio intervento. Mi collego ad alcune parole dell'onorevole Ignazio Abrignani. Se la mediazione ha successo la chiederanno tutti. C'è bisogno della mediazione. Questa è la strada che ci porta al successo. Ho utilizzato un termine che è bisogno. Io che arrivo da studi economico-giuridici ho imparato che il bisogno nasce in ognuno di noi se si è a conoscenza di un bene capace di soddisfarlo. I nostri potenziali utenti non sono a conoscenza dell'esistenza dello strumento di cui disponiamo. In altre occasioni ho parlato della cultura della gestione alternativa delle controverse che è qualcosa di ancora più nobile. Adesso purtroppo devo fare un passo indietro e pensare che manca la conoscenza di questo istituto. Io sono un tributerista e un esperto contabile e mi occupo di consulenza per le aziende. Mi sono accorto quando ho deciso di costituire l'organismo che i miei clienti avevano bisogno di contenere il costo in senso ampio del contenzioso. Ho costituito l'organismo e poi ho scoperto che la materia del diritto commerciale societario, come i colleghi con l'intervento di prima, non è materia che era prevista nell'elenco di quelle soggette condizioni di procedibilità. Pertanto ho sempre lavorato sul piano B. Non mi sono mai concentrato troppo sul concetto di obbligatorietà. Forse da un lato il territorio sociale ed economico nel quale occupo il mio organismo ha sede a Milano, nella zona della stazione centrale, quindi nel cuore anche di un'economia che sta soffrendo molto, ma che è comunque un'economia trainante e costituita soprattutto da piccole e piccolissime imprese. Le piccolissime sono imprese composte da una persona, l'imprenditore, l'artigiano, il commerciante, il professionista, le altre hanno 3, 4, 5, 10 dipendenti. È difficile entrare in contatto con realtà sui grandi numeri che ne abbiano di più. Quindi stiamo parlando del vicino di casa, della persona che troviamo all'assemblea di condominio, persone che troviamo al supermercato a fare la spesa, tutte persone che hanno bisogno della mediazione, quella volontaria, per quella che è la mia esperienza. Mai mi sono concentrato sulle materie del comma primo dell'articolo 5 del decreto 28. E poi un altro problema che mi tortura da quando vivo l'esperienza della mediazione civile nel ruolo di responsabile scientifico dell'ente di formazione che presiedo, che è la formazione dei mediatori. La formazione dei mediatori, secondo me, è drammaticamente insufficiente e vedo che quando ritirano l'attestato hanno una presunzione che a me farà brividire. Io oggi ho depositato questa mattina al Ministero della Giustizia l'iscrizione di 44 nuovi mediatori del mio organismo, perché formandoli e poi dando la possibilità di fare il tirocinio assistito, se non li iscrivi non puoi fare il tirocinio. Ora, guardavo a quanti di quei 44 io avrei tranquillamente affidato una mediazione. E sono 44 mediatori che hanno superato, secondo dei parametri oggettivi, ovvero i test, le prove simulate e la prova orale, anche dignitosamente il percorso formativo. Ma non è un percorso formativo, non è colpa loro, è colpa della modalità con cui vengono formati. E devo dire che io ho un'attenzione particolare alla modalità, quindi non ritengo nemmeno che sia un problema della didattica, è un problema che in 50 ore non si può pensare di mettere in mano una persona uno strumento così importante. Io ho fatto più di 100 mediazioni e ogni volta sono terrorizzato dal fatto di sbagliare, e ogni volta, quando non vanno a buon fine, mi interrogo su che cosa ho sbagliato. E magari ho cercato di fare le cose correttamente, ma qualcosa probabilmente poteva andare diversamente. La presunzione è uno dei peggiori nemici dei nostri mediatori. Allora mi sono permesso, ringrazio il dottor Battaglia di questa enorme opportunità, di far inserire nell'ambito delle brochure che avete ricevuto oggi, quella che è la mia proposta di legge, che spero trovi in questo tavolo di presidenza un appoggio e che possa avere un seguito. Io in fondo ho messo anche la mia mail dell'Istituto, in modo che nell'ottica della democrazia partecipativa, chiunque avesse delle idee, prima che prenda forma, possano essere rielaborate. Io ci tengo molto a questa professione, certo mi dispiace il contenuto della sentenza dello scorso 23 ottobre, ma non mi ha francamente preoccupato più di tanto, perché l'economicità, visto che siamo operatori economici, del mio organismo non è mai stata in piedi sulla condizione di procedibilità. La proposta che cosa prevede? La trovate, vi chiedo se di vostro interesse di analizzarla, vado soltanto rapidamente, visto i tempi nei contenuti. La proposta prevede da un lato una codifica delle modalità con cui i mediatori devono garantire all'organismo e alle parti che assistono nel raggiungimento dell'accordo la loro professionalità. Come si fa a codificarla? Io ho pensato all'istituzione dei crediti professionalizzanti, non li ho chiamati crediti formativi. La formazione deve essere avvenuta prima, poi uno integra con formazione e esperienza la sua professionalità. Ecco, scusate, una piccola premessa. Nel mio organismo, l'organismo ICAF, questa modalità, quanto oggetto della mia proposta di legge, è special ex. Io l'ho introdotto nel mio organismo e i miei mediatori devono fare così se vogliono operare nell'organismo. Diversamente vengono sospesi fino ad acquisizione di queste qualifiche. Cosa sono i crediti professionalizzanti? 100 punti che ogni mediatore deve acquisire in un anno. In che modo? Partecipando attivamente alla divulgazione della conoscenza dell'Istituto della Mediazione Civile e della cultura dell'ADR in generale, tramite sportelli che io ho aperto in Lombardia. Cosa sono gli sportelli? Sono degli spazi messi a disposizione da enti pubblici e privati, comuni, aziende speciali partecipate, grosse organizzazioni private, che sono un volano, che mettono in contatto un bacino di utenza importante, dove gratuitamente, dalle 4 alle 8 ore alla settimana, si tiene aperto uno sportello, dove da due anni a questa parte l'ho fatto io e continuo a farlo, però se si vogliono aprire più sportelli ci vogliono i mediatori che ci danno una mano, dove gratuitamente si divulga la cultura della mediazione sul territorio, spiegando quali sono le opportunità di questo istituto. E vi garantisco che stiamo facendo moltissime mediazioni sul recupero crediti. che cosa si media un piano di pagamento, per evitare un decreto ingiuntivo, ad esempio. Stiamo parlando di cose, probabilmente ci abbiamo pensato tutti, il problema è rendere un'idea in qualcosa di pratico. Però io non posso sostenere economicamente persone che paghino gli sportelli e poi mettere, quando arrivano le mediazioni, le parti in mano a un mediatore impreparato. E allora devo trovare qualcosa che in concerto mi permetta di ottenere un risultato. Pago con i crediti formativi i mediatori, che vanno a fare gratuitamente divulgazione della cultura della mediazione. Per andare a spiegare cos'è la mediazione, gli effetti di un verbale nel giudizio, devono saperlo. E implica il fatto che se ho superato la prova finale, magari con un buon voto, ma non conosco la materia, la, quando devo fare sportello, la devo conoscere. E quindi mi devo preparare. La proposta di legge consiste quindi in un aumento del monte ore formative, consiste nella gestione degli sportelli, nella partecipazione attiva a seminari che devono essere organizzati trimestralmente. Io ho decine e decine di mediatori iscritti al mio organismo. Se io questo lo moltiplico come faccio per tutti i mediatori, vuol dire che nell'interland milanese e in Lombardia, soltanto ICAF, sarà parte attiva di 300-400 seminari all'anno. Gestione di 15, oggi siamo a 7, 10, 20, 30 sportelli. Ecco, io spero che, non so di non poter approfondire, pertanto ringrazio per avermi dato la possibilità di... Di appuntamento al 24 a Milano. 26. 26 a Milano. 26 a Milano. 26 a Milano. 26 a Milano. Ho questa grande responsabilità che spero possa essere adeguatamente onorata. Sto organizzando l'edizione milanese del forum, con il patrocinio della provincia di Milano, dentro l'aula consiglio del palazzo della provincia di Milano. Abbiamo partner AFOL Nord-Ovest Milano, ringrazio, è doveroso da parte mia, la dottoressa Bruna Pinotti, direttore generale, che sono due anni che crede in questo istituto e che ha favorito l'apertura di diversi sportelli di mediazione civile nel nord-ovest milanese. Gli amministratori pubblici, quelli che io definisco illuminati, meritano di essere premiati. Premiati da un punto di vista professionale, insomma. E devo dire, questo è importante, avremo ordini professionali, partner, 16 comuni della provincia di Milano e Monza e Brianza, enti privati, avremo molti cittadini, imprenditori, amministratori di condominio, tutte le figure a qualsiasi voglia titolo contribuire al credere nell'istituto della mediazione civile. Grazie, grazie, grazie dottor Ivan Giordano per la ottima notizia.